fratelli e razzurri amici di facebook youtube e instagram buongiorno a tutti ragazzi un saluto a tutti gli iscritti al canale e buon giovedì buon giovedì voi direte mister ma cosa fai a casa no no ho uno sbattimento da fare stamattina e quindi era era inutile andare fino in ufficio per poi andare dall'altra parte di milano quindi tra un po tra un po ci si muove tra un po ci si muove ragazzi intanto vi invito andare a vedere per chi non l'ha vista e le live reaction perché anche se si è perso le live reaction state caricate adesso dirò due cose in proposito poi c'è il video della curva nord quindi video l'ho montato io e quindi ci tengo che andate a vederlo e soprattutto che una bella iscrizione al canale per chi non è iscritto canale curva nord che sta crescendo e vi ringraziamo quindi c'è il video praticamente il il tributo per il compleanno dell'inter 115 anni iniziato col corteo finito con la splendida coreografia e questo poi andare a vedere il video il mio intervento a toc calcio 24 dell'altra sera qualcuno mi ha chiesto ma mister ma è possibile che ti chiamano sempre quando perdi no non è proprio così se ti avevo detto a questo ragazzo l'ho scritto settimana scorsa mi avevano invitato proprio per porto inter quindi per la qualificazione quarti solo che se vi ricordate nelle live reaction non c'era neanche stefanino perché non stava bene e quindi era lì tutto mezzo così non potevo urlare fare disfare e ahimè mi è toccato il post il post inter juve dove adesso andremo a dire un po di cose dove lì ho detto alcune cose e poi c'è il video come ti disegno una core ho fatto la coreografia del del bicione regale quella stupenda secondo me quella dell'anno scorso in coppa italia inter milan 3 a 0 e il prossimo inter napoli il la prima coreografia del nuovo corso e poi ci sarà in preparazione quello è ancora da fare inter napoli è quasi finito ci sarà da fare ovviamente quella di inter juve che è spettacolare su due riprese anche qui qui mi mette in imbarazzo l'anno perché quindi devo fare due una è un dipinto praticamente vedremo vedremo cosa verrà fuori detto questo andate a vedere tutti questi video ragazzi così passate anche il tempo visto che visto che c'è la sosta vedi che c'è la sosta vedi vedi riposati riposati per dieci giorni ti riposi tu cuscino vedi che sta tutto claudicante quello guarda com'è bel quello di stefanino bello in tono specifico quello invece niente proprio a cascetto sta proprio male sta allora ragazzi allora allora io invito no quei pochi quei pochi pirla no che vengono a commentare che vergogna quante parolacce davanti a un bambino non ti vergogno no non mi vergogno un cazzo non mi vergogno non mi vergogno perché dico rigore è questo e dice tante parolacce ma un figlio splendido ok molto educato a detta di tutti scuola calcio quindi fatevi i cazzi vostri preoccupatevi dei cazzi vostri delle vostre famiglie perché i primi che scrivono i primi che 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 accusano che vanno a sindacale sono i primi che hanno qualche cazzo di problemi in casa loro ok uno ha scritto poi ci lamentiamo che crescono teppisti e infatti qui c'è uno che ha iniziato andare allo stadio nell'84 85 avevo 7 anni ero subissato di bestemmie di cose improponibili intorno a me e guarda che tepista cazzo che tepista tepistone e dico le parolacce ahimè ahimè quindi a me queste cose mi fanno veramente ridere perché questi questa gente qui che commenta sono i primi che hanno il cazzo di problemi nelle loro case nelle loro vite soprattutto allora io ho aspettato qualche giorno se andate a vedere noi e l'altro ieri a top calcio 24 di sera quindi era martedì sera ho fatto anche una battuta ho aspettato qualche giorno ma nessuno parla tutto tace nessuno dell'inter dice niente cioè l'unico è stato in zaghi ma era ovvio che andasse in zaghi e mettesse al centro dell'attenzione solo l'episodio no troppo facile per per in zaghi una cosa del genere e tanti dicono e vedi però nessuno parla lo hanno lasciato da solo a me non me ne frega un cazzo se voglio lasciare da solo in zaghi non devono lasciare da sola l'inter perché farsi prendere per il culo anche dal signor rocchi quello che si faceva spruzzare la panna montata sai cazzo da quadrado è signor rocchi fa le battute adesso tiriamo fuori gli audio tirali fuori tutti gli audio l'ho detto l'altra sera top calcio tutti devi tirare fuori tirare fuori questi allora devi tirare fuori anche quelli scomparsi fenomeno e noi ci facciamo prendere per il culo non solo in campo da schiffi che va da barella e dice to arbitra tu quando ci sono le immagini della panchina della juve che c'è bonucci che fa fanno tutti così fanno l'unico che ride è allegri pirla capito che se n'è andato pure via prima allegri allegri che dice noi siamo dei signori che andiamo a fare un collage di tutte le sfuriate che hanno fatto in camp dappertutto allegri soprattutto acciughina ma di che cazzo stiamo parlando nessuno all'inter parla nessuno dice niente ci siamo noi che ci sfoghiamo noi youtuber che ci sfoghiamo marotta dove cazzo è marotta dove cazzo è perché io marotta quando era la juve lo attaccavo perché marotta rompeva le palle per le minime cose e io gli dedicai anche una mezza parodia se vi ricordate chi mi segue da anni lo sa poi ho chiesto scusa ho chiesto ovviamente ma aveva rotto il cazzo rompeva sempre il cazzo marotta quando era la juve qua non si dice nulla qua non si dice nulla perché fossi stata io l'inter e avrei detto va bene vuoi tirare fuori gli audio però tirami fuori anche quelli precedenti degli episodi precedenti quelli spariti quindi io non lo so se è possibile una cosa del genere non c'è nessuno che dice nulla così ci hanno raccontato ci hanno raccontato che non c'erano le immagini ci sono praticamente due tocchi di braccio e mezzo e quello clamoroso è quello di vlavic quello di vlavic che questi fanno finta di niente no ma rabbiò non la tocca c'è luce guarda la rai cazzo rabbiò c'è vlavic che la tocca così e barella lo mima due volte quel fenomeno va a dire a barella arbitra tu sei bravo tu arbitra tu è l'intermuta ci facciamo prendere per il culo ma non solo per questa roba qui quello che mi fa veramente incazzare e che ve lo dico da gennaio ve lo dico facciamo il conto degli episodi a sfavore anche quando vinciamo e soprattutto quando vinciamo perché qua dopo monza inter non si è detto a sull'episodio non si è detto a qualsiasi coerenti però poi si fa la conta e chi cazzo ha parlato in questi tre mesi in tre mesi e mezzo chi ha parlato dell'inter nessuno nessuno dice un cazzo e io mi ricordo che facevo i video contro marotta e mi girano i coglioni e mi girano i coglioni perché non dobbiamo non deve essere diego e né altri youtuber a scatenarsi a fare queste cose qui porca troia quindi adesso anche lì non l'ho capita bene non ho capito perché ad ambrosio due giornate e quell'altro parede su una vabbè non lo so forse è successo qualcosa dopo non lo so anche quella cosa lì non l'ho capita ma non me ne chiama un cazzo e ripeto e l'ho detto anche in tv l'ho detto non c'entra neanche la juve qua qua c'entra schiffi perché schiffi è recidivo con noi ha sempre avuto questo metodo di arbitraggio di merda e non c'era sempre la juve quello mi fa incazzare le prese per il culo pure a me non sembra normale se per voi è normale che nessuno dica niente cazzo siamo a giovedì nessuno ha detto nulla neanche dopo rocchi che fa il fenomeno neanche dopo rocchi che fa il fenomeno vabbè diamo avanti così cazzo io devo dire basta ragazzi questo era il mio video sfogo perché mi volevo sfogare su questa roba qui perché non esiste che nessuno dica niente su questa ripeto non è solo questo è da gennaio che li vediamo tanti episodi ok ci metto dentro anche monza anche se non è stato quello ma ce lo metto dentro ovviamente e sono tanti e sono tanti soprattutto quando si vinceva interlecce c'era 1 barra 2 rigore io ero allo stadio 1 barra 2 rigore a favore dell'inter io ero allo stadio mi metto 2 a 0 ma lo si è detto su sto canale facciamo la conta perché poi quando ci sarà qualcosa a favore ci faranno due coglioni così e i favoriti favoriti il cazzo favoriti ma quello che mi fa veramente incazzare che nessuno ci mette la faccia nessuno parla e questa è una cosa che contestavo da sempre da quando mi sono messo in gioco sui social chi è che parlava chi c'era all'epoca a parte che all'epoca erano divisi c'era la parte indonesiana la parte inglese la parte italiana non si capiva un cazzo non si capiva arriva marotte uno dice sì effettivamente sì la faccia ce la mette però è qua cazzo è qua che ti voglio è qua che ti voglio perché cazzo ti abbiamo preso anche per quello ti abbiamo preso porca troia no alla juve pure per le minchiate ho dovuto cioè veramente vi ricordate la parodia come cazzo fa guidare marotta in macchina era la parodia ricordate verrà qua un cazzo tutto tace ma condivisione del video iscrizione al canale sempre forza inter ragazzi attivate la campanella prossimamente prossimi video tanto c'è c'è la pausa ci aggiorniamo va bene ciao belli